Una farmacia che si occupa del benessere della persona a 360 gradi. E' la farmacia Bolli 1833 del dottor Giuseppe Cenci a Ponte Felcino di Perugia, con il suo laboratorio galenico, la cabina estetica e reparti dedicati a omeopatia e fitoterapia, mamme e bambini, veterinaria, alimentazione speciale e dermocosmesi, oltre a offrire il servizio infermieristico e prenotazioni CUP. Fornitissimo poi è il reparto sport e alimentazione, dove trovare tutti i prodotti adatti a chi vuole mantenersi in forma o praticare attività sportiva anche a livello agonistico, seguendo i consigli di farmaciste e se stesse atlete. Sono prodotti che si rivolgono a chi fa sport e a chi vuole avere indicazioni per un'alimentazione corretta sia dal punto di vista del controllo del peso sia della salute in generale. Dalla pasta, grissini, cornetti, merendine, fatti però in modo tale da avere valori nutrizionali appropriati per la persona che devi utilizzarli. Ovviamente le esigenze cambiano tra lo sportivo e il soggetto invece che ha bisogno appunto di orientarsi sul controllo del peso, quindi ovviamente in base a questo le indirizziamo nella scelta dei prodotti più indicati. Alla farmacia Bolli si trovano dunque sia alimenti funzionali, ricchi di particolari elementi, principi attivi di origine naturale o sostanze nutritive che apportano benefici all'organismo, sia integratori nutraceutici alimentari, con caratteristiche tali da migliorare l'assorbimento delle sostanze nutritive da parte dell'organismo stesso. Sul fronte sportivo sono disponibili molteplici integratori specifici anche per sportivi diabetici e vegani. Il cliente si interfaccia con personale esperto pronto a dare i giusti consigli per soluzioni personalizzate. Qualunque tipo di sport trova delle esigenze particolari e quindi degli integratori a Personam. L'idea è quella di fare una strategia per migliorare le performance degli sportivi e degli atleti. In questo noi abbiamo cercato non solo l'integrazione sportiva delle migliori aziende che collaborano con noi, dalle proteine, aminoacidi, integratori salini, ma anche nutrizione iniziale come la pasta proteica o la pasta a basso indice glicemico. Vogliamo che la farmacia sia sempre aperta e disponibile e vogliamo che le persone che entrano dentro poi possano trovare tutto ciò di cui hanno bisogno. Per questo abbiamo sviluppato tanti reparti così specialistici, con personale dedicato, che ha un'esperienza sicuramente importante in quel settore dove svolge al meglio la propria professionalità. Grazie a tutti.